e tu uomo gridò il grosso signore dalla pelle bianca scorgendo fra i vapori un uomo alto e scarno dalla barbetta rada e con una gran croce di rame sul petto da qua del vapore io signoria non sono il bagnino sono il barbiere non è cosa mia dare il vapore non ordinereste di metterle coppette il grosso signore si risciò i fianchi paonazzi pensò un poco e disse le coppette va bene mettile non ho fretta il barbiere corse nella sala d'aspetto a prendere gli arnesi e di lì a un cinque minuti sul petto e sul dorso del grosso signore già nereggiavano dieci ventose io mi rammento di voi signoria cominciò il barbiere applicando l'undecima coppetta da noi sabato scorso faceste il bagno e allora vi tagliai anche i calli sono il barbiere michaelo rammentate giusto allora voi mi faceste delle domande circa le ragazze da marito ah ebbene nulla io mi preparo ora alla comunione e faccio peccato a criticare signoria ma non posso non esprimervelo in coscienza che dio mi perdoni le mie critiche ma la ragazza di marito oggi si è fatta poco seria sventata una ragazza ad una volta voleva per marito un uomo che fosse posato austero con un capitale che potesse trattare di tutto si rammentasse della religione quella d'oggedì invece si lascia lusingare dall'istruzione dalle un uomo istruito a un signor funzionario o qualcuno del seto mercantile non farglielo neppur vedere lo prenderebbe in giro c'è istruzione istruzione una tal persona istruita certo in servizio raggiungerà un alto grado ma un altro rimarrà tutta la vita scrivacchino non lascerà di che fargli il funerale ce n'è forse pochi oggi di costoro qui da noi viene uno uno istruito un telegrafista ha superato tutte le prove sa comporre di spacci e si lava senza sapone una pena a guardare povero ma onesto si sentì dal ripiano di sopra una ranca voce di basso e si è fatta gente bisogna essere orgogliosi l'istruzione aggiunta alla povertà attesta le alte qualità dell'anima zotico michael guardò di sbieco verso il palchetto di sopra stava lassù e si batteva il ventre con uno scopetto un individuo scarno con protuberanze ossute su tutto il corpo e composto come pareva unicamente di pelle e costole il suo viso non si vedeva perché tutto coperto da lunghi capelli penzolanti erano visibili solo due occhi pieni di malignità e disprezzo fissi su michaelo è uno di costoro di quegli zazzeruti strettò l'occhio michaelo con delle idee fa spavento quanta ne pullula oggi di tal gente non potresti acchiapparli tutti beh ha sciolto le ciocche lo scheletro ogni discorso da cristiano la inugia proprio come il diavolo l'acqua santa ha preso le parti dell'istruzione costoro ecco piacciono alla ragazza d'oggi proprio ecco costoro signoria non è forse nauseante in autunno mi chiama a casa sua la figlia di un sacerdote trova mi dice michel per le case mi chiamano michel perché arriccio le signore trova mi dice michel un fidanzato ma che sia uno scrittore e io per sua fortuna ci avevo un certo veniva dalla trattoria di porfi veniva dalla trattoria di porfiri jemelianice e minacciava sempre di stampare qualcosa sui giornali gli si accosta il cameriere a chiedergli i soldi della vodka e lui subito lo sgrugno come? da me i soldi? ma sai chi sono io? ma sai che posso stampare sui giornali che hai assassinato uno? un meschinello di tal fatta un pezzente io lo incantai coi quattrini del pop gli mostrai il ritratto della signorina e li feci incontrare gli procurai un vestituccio anoro non piacque alla signorina malinconia dice in viso ce n'è poca e non sa lei stessa che diavolo le ci voglia è una calunnia contro la stampa si sentì la rauca voce di basso da quello stesso palchetto gaglioffo sarei io un gaglioffo? buon per voi signore che questa settimana mi preparo alla comunione se no vi direi io una parola per il gaglioffo siete dunque anche voi uno scrittore? anche se non sono scrittore guardati dal parlare di ciò che non capisci gli scrittori in russia sono stati molti e hanno fatto del bene hanno incivilito il paese e perciò stesso dobbiamo far loro non ingiuria ma onore parlo degli scrittori laici come di quelli ecclesiastici gli ecclesiastici non staranno a occuparsi di tali faccende cruzottico? non puoi capire Dimitri Rostovski Innocenti Kersonski Filaret Moskovski e tutti gli altri prelati della chiesa con le loro opere hanno contribuito bastantemente alla civiltà Michailo sbirciò di traverso il suo avversario storse la testa e fece un raschio beh dite ora qualcosa signor mio borbottò grattandosi la nuca qualcosa di intellettuale non per nulla anche i capelli li avete così non per nulla non tutto ciò lo capiamo benissimo e vi mostreremo subito che uomo siete lasciamovi stare signoria le coppette addosso e io subito vado e torno Michailo tirandoci su per via le bracche bagnate e guazzando rumorosamente a piedi scalzi uscì nella sala d'aspetto ora verrà fuori dal bagno un tale dai capelli lunghi si rivolse al giovane che stava al banco e vendeva il sapone ebbene tu tienilo d'occhio sovilla la gente con certe idee bisognerebbe fare un salto a chiamare Nazar Zakharic tu dillo ai ragazzi ora uscirà di qui uno dai capelli lunghi vi svegliò Michailo rivolgendosi ai ragazzi in piedi presso il vestiario sovilla la gente tenetelo d'occhio e correte dalla padrona che mandi per Nazar Zakharic per far verbale ne sta dicendo d'ogni sorta con certe idee ma quale dai capelli lunghi si impaurirono i ragazzi qui non si è spogliato nessuno così in tutto se ne sono svestiti sei ecco qua due tartari qui il signore che si è svestito lì i due mercanti lì il diacono e più nessuno hai preso dunque il padre diacono per l'uomo dai capelli lunghi state inventando diavoli lo so quel che dico Michailo guardò i panni del diacono toccò con la mano la sottana e alzò le spalle sul suo viso si diffuse la massima perplessità ma com'è di persona ma grolino di un biondo chiaro barbetta appena appena tossisce sempre bofonchiò Michailo sicché ho inveito contro un religioso un affaraccio ecco un peccato sì ecco un peccato e dire che mi preparo alla comunione fratelli come mi confesserò adesso se ho offeso un ecclesiastico signore perdona me peccatore andrò a domandare perdono Michailo si grattò la nuca e fatto un viso afflitto si avviò al bagno padre diacono sul palchetto di sopra non c'era più stava giù presso i rubinetti e allargate ampiamente le gambe si versava dell'acqua nel secchio padre diacono si rivolse Michailo con voce di pianto perdonate per amor di Cristo quel lempio che sono perché cosa Michailo sospirò profondamente e si prosternò ai piedi del diacono per aver pensato che aveste in testa delle idee come meraviglio come vostra figlia con tutta la sua bellezza e la sua buona condotta non si sia finora sposata disse Nicodim Yegoric disse Nicodim Yegoric Potitskin arrampicandosi sul palchetto di sopra Nicodim Yegoric era nudo come ogni uomo nudo ma sulla testa calva aveva il berretto temendo l'afflusso di sangue al capo e un colpo apoplettico egli faceva sempre il bagno di vapore col berretto il suo interlocutore Makar Tarasic Pieskin un vecchietto piccino dalle sottili gambette azzurrine e risposta alla sua domanda si strinse nelle spalle e disse non sei sposata non sei sposata non sei sposata perché Dio mi ha fatto torto nel carattere io sono quieto e misti assai Nicodim Yegorice e oggi dì con l'amitezza non si combina nulla un pretendente oggi è una bestia feroce e bisogna trattarlo in conformità cioè come feroce da che punto volete dire è un pretendente viziato come fare con lui severità ci vuole Nicodim Yegorice non sa da aver soggezione con lui Nicodim Yegorice andare dal giudice conciliatore dirgliele sul grugno ma andare per una guardia ecco come bisogna gente da poco gente da nulla gli amici si stessero sul palchetto di sopra e si diedero a lavorarli scopetto da nulla continuò Makar Tarasic ne ho passate io con loro canaglie se di carattere fossi stato un po' più fermo la mia dascia da un pezzo avrebbe preso marito e fatto dei figli sì signore di vecchie zitelle adesso fra le donne signor mio in tutta coscienza ce n'è la metà del totale il 50% e notate Nicodim Yegorice ciascuna di queste stesse ragazze negli anni giovanili ebbe dei fidanzati e perché si domanda non andò a marito per quale ragione ma perché di tenerlo a freno il fidanzato i genitori non furono in grado gli permisero di sviarsi è vero l'uomo oggigiorno è viziato sciocco libero pensatore gli garba ad aver tutto a ufo e con profitto gratis non ti farà nemmeno un passo tu gli fai un piacere ma lui da te vuole quattrini beh e si sposa anche con secondi fini mi sposo dice e farò dei soldi questo non sarebbe ancora nulla passi mangia sbafa prenditi il mio denaro solo sposa la mia figliuola fammi questa grazia ma capita che anche coi soldi piangi tutte le tue lacrime patisci tutte le pene qualcuno si fidanza e come arriva proprio al punto all'altare fa marse indietro va a chiederne un'altra bello essere fidanzato un piacere unico gli si dà da mangiare da bere e i quattrini in prestito ok non è una vita beh lui fa il promesso sposo fino alla vecchiaia fino alla morte e non ha bisogno di sposarsi ormai ha la calvizia in tutto il capo è tutto bianco e i sinocchi gli si piegano e lui è sempre fidanzato oppure se n'è che non si sposano per stupidità lo sciocco non sa neppure lui quello che gli si vuole e così fa lo schizzinoso quello per lui non è buono quest'altro non va non finisce di venire di fidanzarsi e poi di un tratto di punto in bianco non posso dice e non voglio ma ecco prendiamo solo per esempio il signor Katavassov il primo fidanzato di Dasha insegnante di ginnasio oppure consigliere onorario ha preso tutte le scienze il francese il tedesco un matematico e alla prova è risultato un babbeo uno stupido e nulla più voi dormite Nicodimia Goric no perché poi ho chiuso gli occhi dal piacere beh ecco cominciò a girare attorno alla mia Dasha e dovete notare Dasha non aveva allora neppure vent'anni una fanciulla che semplicemente era la meraviglia di tutti un dattero pienotta ben formata nel corpo e nel resto il consigliere di stato Tzitzaronov Graviansky presta servizio nel dicastero ecclesiastico strisciava ginocchioni perché andasse istitutrice in casa sua non volle cominciò Katavassov a venire da noi viene ogni giorno e rimane fino a mezzanotte sempre discorre con lei di varie scienze e di fisica le porta dei libriccini e ascolta la sua musica soprattutto insiste sui libriccini la mia Dasha poi è lei stessa una letterata i libri non le servono affatto non sono che trastulli e lui leggi questo leggi quest'altro l'annoio a morte se ne è innamorato lo vedo e lei visibilmente nulla non mi piace dice per il fatto che Babbo non è un militare non è un militare ma tuttavia non importa ha un grado è nobile agiato sobrio che ci vuole ancora la chiese debbo la nostra benedizione della dote non domandò neppure acqua in bocca come se non fosse un uomo ma uno spirito incorporeo e potesse fare a meno di dote fissarono anche il giorno che avrebbero sposato e che credete eh tre giorni prima delle nozze venne da me in bottega questo stesso Katavassov occhi rossi c'era pallida come per uno spavento trema tutto che volete scusate dice Makartarassic ma sposare Dalia Makarovna io non posso io dice mi sono ingannato io dice guardando la sua fiorente giovinezza e il suo candore pensavo di trovare in lei un terreno per così dire la freschezza dell'anima dice ma lei ha già fatto in tempo ad acquistare delle tendenze dice lei è propensa dice all'orpello non conosce il lavoro ha succhiato col latte della madre e non rammento che cosa avesse succhiato parla e lui stesso piange io signor mio solo gliene dissi quattro e lo lasciai andare ed al conciliatore non ci andai e ai suoi superiori non feci reclamo per tutta la città non lo svergognai se fossi andato dal conciliatore allora credo si sarebbe spaventato dello scorno l'avrebbe sposata i superiori penso non sarebbero stati a badare a ciò che lei aveva succhiato ha impicciato una ragazza ebbene sposala un mercante ecco cliachin ne avete inteso parlare anche se è un contadino senti un po' qui che tiro anche con lui il fidanzato presa in caponirsi sulla dote trovò a ridire qualcosa sicché lui cliachin lo condusse in dispensa chiuse a chiave cavò di tasca sapete una grossa rivoltella con le pallottole caricata come ci conviene e disse giura dice davanti alla immagine che la sposerai se no dice ti ammazzo sull'istante vigliacco che sei sull'istante giurò e si sposò il giovanotto ecco vedete ma io così non sarei capace e perfino di picchiare non mi va vide la mia dash vide la mia dash un funziona vide la mia dash il funzionario del consistoro il ciuffo briustenco il ciuffo briustenco anche lui del dicastero ecclesiastico la vide e se ne innamorò leva dietro rosso come un gambero mormora parole diverse e dalla bocca sprizza ardore il giorno se ne sta da noi e la notte passeggia sotto le finestre anche dash gli si affezionò i suoi occhi di ciuffo le erano piaciuti in essi dice c'è fuoco e nera notte passeggia che ti passeggia il ciuffo la chiede in moglie dash si può dire in ebbrezza e in estasi dette il suo consenso io dice babbo capisco non è militare ma è pur sempre del dicastero ecclesiastico ed è tutt'uno con l'intendenza e perciò gli voglio molto bene è una ragazza e lei pure guarda un po' oggi di sottilizza intendenza il ciuffo esaminò la dote mercanteggiò con me e solo storse un po' il naso è d'accordo in tutto purché le nozze si facciano al più presto ma quello stesso giorno al momento di fidanzarsi diede un'occhiata agli invitati e si agguantò la testa padri miei dice quanti parenti hanno non ci sto non posso non voglio e continuò continuò e io così e così ma tu dico signoria sei ammattito che è più onore se i parenti sono molti non ne conviene prese il cappello e chi si è visto si è visto ci fu anche un caso si fatto chiese la mia Dasha l'ufficiale forestale agli Aliaiev se ne invaghì per l'intelligenza e la condotta ebbene anche Dasha prese a volergli bene in carattere positivo di lui le piaceva egli è infatti un brav'uomo nobile chiese la sua mano e fece tutto punto per punto esaminò la dote tutta fino alle minuzie frugò in tutti i bauli se la prese con matriona perché la sua diciona non era stata attenta alle tarme e mi fece tenere la listerella dei suoi beni un galantuomo è peccato dirne male mi piaceva devo confessarlo a un punto straordinario mercanteggiò con me due mesi io gliene dò otto mila e lui ne chiede otto e mezzo mercanteggiamo a tutto andare accadeva che sedessimo a bere il tè ne bevevamo quindici bicchieri ciascuno e sempre a mercanteggiare viene schiaffo duecento non vuole e così ci separammo a cagione di trecento rubli se ne andava il poverino e piangeva voleva un gran bene ad ascia me la prendo ora con me peccatore che sono lo dico in verità avrei dovuto consegnargli i trecento rubli oppure fargli paura svergognarlo per tutta la città o condurlo in uno stanzino buio e giù sgrugnioni feci male i conti lo vedo ora che li feci male mi comportai da sciocco non c'è che fare Nicodim Iagoriz c'ho un carattere mite molto placido questo è vero beh io vado è ora la testa mi si è fatta pesante Nicodim Iagoriz si colpì un'ultima volta con lo scopetto e scese giù ma Cartarassi ce sospirò e con più impegno ancora si mise a dar di scopetto e con più impegno e con più impegno